musica bella a tutti ragazzi sono flash e era già da un po' che non ci si sentiva in effetti si non mi importa scusate se sono stato cioè vi avevo promesso un video prima di natale e questo sarebbe il video prima di natale ne avrete anche altri devo dire la verità però diciamo che con questo video voglio spiegarvi un po di cose che sono successe ad esempio che avrò una programmazione video insomma ho deciso che da diciamo gennaio comincerò a caricare due video principali a settimana il primo video uscirà mi raccomando sognatevelo lunedì alle all'una e mezzo mentre il secondo video uscirà venerdì alle due bene poi ci potranno essere ovviamente altri video che però diciamo saranno un po random e cioè non so di anch'io di preciso quando li caricherò diciamo quando avrò voglia questi due video però li avete sempre e comunque sicuri altra cosa questi due video che caricherò sempre sicuri saranno video più tecnici infatti ho deciso di portarvi una frequenza minore nei video cioè non caricare i video ad esempio 4 5 video a settimana totalmente drogheggianti ma preferirò mantenere una un livello di video superiore garantendovi degli aspetti tecnici nei video e diciamo con qualità maggiori piuttosto che full sdrogo come facevo una volta e quindi avrete questi due video che saranno tecnici tra virgolette e in più avrete altri video quando avrò tempo che saranno più sdrogheggianti diciamo anche dei live in questo periodo però diciamo che questa cosa la comincerò da gennaio forse anche prima ora vedo perché sto lavorando a due video soprattutto su uno per la community guagna al quale avevo promesso di fare di realizzare un video per loro e quindi ci sto mettendo abbastanza impegno diciamo nel tempo libero che ho e quindi ai ragazzi bella a tutti e al prossimo video il gameplay di tutto fondo è totalmente random ma avvio non cambierà molto iscriviti al canale